Musica E beh, chi sei arrivato in 10.9? Buonasera, io ho i suoi Vigli e questa l'ho appena attaccata, l'è Shekker che è un programma di Radeo Onde Furlane che va in onda da snufas di ogni lunedì da sera sulle frequenze di Onde Furlane, ma è anche la polizietà sul sito di ondefurlane.eu la polizietà tutta la produzione di Radeo Onde Furlane e quindi è anche Shekker in tutte le sospettate. Normalmente questo cocktail che si gusti insieme ogni settimana ha una ricetta vera un po' a tutti i generi e tutta la roba che mi piace. Sicunque però questo cocktail verrà un elemento in comune di tutti i prossimi e lei ha battuto Flats. Ma noi appora non stai a pensare la nostra Radeo e via l'ambiente, si tratta semplicemente che per un'ora si sottolinea. Tanta via la musica con l'inca che soffletta dentro i loro strumenti. E a via di Shekker è un grande gruppo del rock anni 70 che avevano una grandissima sezione classica. Allora ci chiamavano Chicago Transit Authority e al loro primo album del 69 avviarci un talk che giustamente si intitola Introduction. Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 . Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. , Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.